Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Voglio usare questi semini che mi stanno anche scadendo, anche perché sono molto buoni, li ho presi in alto adige. Quindi ho fatto il solito impasto, ho messo il neotolisi, poi ho aggiunto la pasta madre, ho fatto incordare e ho messo anche il sale. Dopodiché per ultimo ho aggiunto i semini e ho fatto girare un pochino. I semi ne ho messi all'incirca 50 grammi, un pochino li ho lasciati per decorare sopra, vedete ne ho messi tanti. Bene, sul piano di lavoro faccio un giretto così delle pieghe, in questo modo, e poi lo faccio riposare. Lo copro con la ciotola e lo faccio riposare una mezz'oretta. E poi vado a fare un altro giro di pieghe, le classiche pieghe a tre. Nel video non vi ho fatto vedere i passaggi iniziali, ma voi siete bravissime, quindi già sapete che l'autolisi bisogna bagnare la farina con quasi tutta l'acqua della ricetta e lasciare 30 minuti. E poi procedere all'impasto, quindi aggiungere la pasta madre, il sale e fare incordare. Ok, ora metto l'impasto dentro la ciotola che ho oliato, copro con la pellicola o con un coperchio come volete e aspettiamo che l'impasto lieviti, ci vorranno almeno 4-5 ore. Eccolo qua, passato il tempo, lo giro sul piano di lavoro. Lo allargo e vado a fare un giro di pieghe, ne farò due di giri, due giri di pieghe, le classiche pieghe a tre. Allargo un pochino, vedete l'ho riempito di semini, ce ne ho messi proprio tanti, si fa anche difficoltà ad allargarlo. Ok, tra un giro e l'altro di pieghe copro con la ciotola e faccio passare la solita mezz'oretta, mezz'ora o 40 minuti. Ok. 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 Una volta finiti i giri e passato il tempo, allargo di nuovo l'impasto e vado a formare un filone. Naturalmente se volete questo panno lo potete fare anche in giornata, io perché ho iniziato tardi quindi sono costretta a fare un passaggio in frigo, un passaggio notturno. Voi se rintrescate la pasta madre la sera prima potete iniziare tranquillamente la mattina ad impastare e per la sera potete infornare il filone. Bene, lo adaggio nel cestino ed ora questo passaggio lo sto facendo, che sono arrivata di sera, in serata, quindi io farò una maturazione in frigo. Appoggerò il mio filone dentro il frigo fino a domani mattina, quindi ora lo copro con un telo, ho messo prima l'altra semola, ci metto un telo, il telo che uso sempre e dopodiché ci metto anche una busta di plastica, perché altrimenti attirerebbe tutta l'umidità del frigo e non va bene, quindi lo sigillo, lo chiudo bene la busta e lo metto in frigo fino a domani. La mattina dopo lo tiro fuori presto, 6 e mezza, 7 e lo tengo a temperatura ambiente, eccolo qua. Ho fatto la prova a dito, direi che è pronto, quindi ho già acceso il forno per portarlo a temperatura. Ribalto sulla carta forno in questo modo, così, poi con la carta forno potete fare quello che volete, farla scivolare sulla pietra oppure su un'altra teglia calda, come volete. Spolvero di semola, aggiusto un pochino, nel forno ho messo anche un pentolino per creare un po' di vapore. Ok, ora ci faccio un taglio, un taglio con questa lametta curva, che però su questo impasto ci sono i semini, anche quelli grandi ci sono i semi di zucca e di giasole, e ho fatto un po' di fatica perché la lama sbatteva sui semi, non amo fare i disegnini, però qui velocemente ho fatto, ma non amo fare i disegnini perché non sono brava, non sono brava a farli. Ok, metto un po' di semini per guarnire, ci spruzzo un po' d'acqua per farli attaccare. Scusatemi la voce oggi, sto un po' un pochino rauca. Ok, ci siamo, intanto il forno è ben caldo, e vado ad infornare. Il forno per 20 minuti l'ho tenuto a temperatura massima, poi ho abbassato a 220, ho tolto il pentolino, poi ancora a 200, poi alla fine ho messo a 180 spiffero, complessivamente intorno ai 50 minuti di cottura, come al solito. Eccolo qua, ora lo faccio, aspetto che si freddi, prima di tagliare. Eccolo qua, vediamolo al taglio, non è proprio freddissimo, il pane andrebbe tagliato sempre freddo, per vedere bene l'interno. Beh, io direi che va bene, questi semini gli danno un profumo ed un sapore incredibile, veramente buono. Vi ringrazio della visione, vi invito a condividere i miei video, a lasciare un like e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.